Era il 17 gennaio del 2014 quando a seguito di forti piogge un terrazzo a strapiombo sulla scarpata ferroviaria fra Cervo e Andorra si staccò dalla sua sede provocando una frana che causò il deragliamento di un treno intercity proveniente da Milano e diretto a Ventimiglia con 200 passeggeri. Si spiorò la tragedia e la linea ferroviaria rimase bloccata per due mesi. Ora per quel disastro si apre il processo penale. Il prossimo 8 novembre si terrà l'udienza preliminare e alla sbarra ci saranno i proprietari del terrazzo Vincenzo di Troia, 77 anni, sua figlia Giulia, 46, col marito Raffaele De Carlo, anche lui 46 anni, tutti milanesi, il costruttore Damiano Bonomi di 78 anni, il tecnico Giovanni Bosi, 73, di Bergamo e ancora il genovese Franco Dagnino, 63 anni, dirigente della Fer Servizi, azienda incaricata della manutenzione della linea ferroviaria, accusato di non avere informato del dissesto presente in zona già da tempo. Ad indagare sulla vicenda era stato sostituto procuratore della Repubblica Giovanni Battista Ferro che ha poi avanzato richiesta di rinvio a giudizio per i sei indagati.